Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Prima di affrontare l'argomento della settimana lasciatemi salutare e ringraziare Luigi e Franco, due nuovi abbonati alle mie video lezioni che ormai sapete si trovano qui sul canale YouTube. Poi voglio ringraziare tutti gli ormai tantissimi abbonati storici che mi sostengano. Ma passiamo all'importante video di oggi che ha come protagonista Sara Sadat Kadem al-Sharie. E chi è? È la più forte scacchista iraniana. Sara Sadat, che è il nome, ha 25 anni ed è il numero 17 della classifica mondiale femminile. Ma purtroppo dobbiamo parlare di lei per qualcosa che ha poco a che fare con gli scacchi, anche qualcosa di molto pericoloso. Ai mondiali appena conclusi in Kazakistan l'abbiamo vista giocare per la prima volta senza velo. Vi faccio vedere qualche foto. La ragazza non ha fatto nessuna dichiarazione ma pare proprio una scelta di campo contro l'intransigente e sanguinario regime degli Ayatollah. Un regime ormai insopportabile contro il quale il popolo iraniano sta protestando con grande coraggio anche grandi sacrifici umani. E si capisce adesso come mai più di due anni fa il giovanissimo Firuja, talento emergente iraniano, si sia spostato a vivere in Francia, naturalmente, per avere più tranquillità. Non si poteva sopportare di essere sotto il controllo di questa gente qui. Vi ricordate come mai Firuja, quale fu la goccia che fece traboccare il vaso? La solita storia è che a qualsiasi tipo di torneo i giocatori iraniani non possono giocare contro i giocatori di Israele. Questa e tante altre assurdità che hanno fatto scappare. E faranno scappare tantissimi campioni dall'Iran, tantissimi professionisti. Speriamo anche tanta gente civile normale. Ma ritorniamo all'argomento. Sara Sadat è sposata con un famoso regista iraniano che si chiama Ardeshir Amadi. Quindi coppia anche molto famosa. Questo giovane, anche un tipo pariilluminato, a guardare come si comporta con la moglie e con gli altri, come si veste, eccetera, eccetera. Ora, qual è il problema? Oltretutto questa coppia appena sposata da febbraio ha anche un bambino. Quindi il ritornare a casa mi preoccupava tantissimo perché sicuramente l'avrebbero arrestata. La buona notizia è che appena conclusosi il campionato del mondo Blitz in Kazakistan, i tre, Sara Sadat, il marito e il bambino, sono volati in Spagna. Non torneranno mai più in Iran. Voglio farvi vedere... No, e quindi questa notizia mi rassicura. Voglio farvi vedere una bellissima sua partita, giocata proprio qualche giorno fa al Mondiale Rapid, dove purtroppo è arrivata solamente trentasesima. Ma per forza non si può giocare con tranquillità e neanche con compassione, quando si hanno sulle spalle problemi di questo tipo, che riguardano anche tutti i compatrioti. Quindi questo dimostra come il fanatismo di qualsiasi religione o colore politico rovina sicuramente la vita delle persone. Di tutti quanti, eh, prima o poi. Perché c'è anche qualcuno che si nasconde all'inizio e dice, ma a me non mi tocca, ma ti toccherà. È perché questa gente distrugge tutto. Le persone e anche la stessa società. Ma passiamo alla partita che è meglio. La Mumimova di Bianco, giocatore espertissima, 32 anni, contro Sarasadat con i pezzi neri. Partiamo. Allora, la giocatrice bianca apre la partita con E4. Sarasadat di nero gioca E5. Cavallo in F3, cavallo in C6. D4. Interessante, la partita scozzese. E allora cosa fa il bianco? Il bianco minaccia di vincere un pedone, il nero deve sicuramente reagire. E allora E per D4, il cavallo ricattura, cavallo in F6, sviluppa e attacca immediatamente il pedone in E4. Adesso il bianco deve fare subito una scelta importante. Deve scegliere se proteggere il pedone giocando cavallo in C3 ed entreremmo nella variante dei quattro cavalli. Oppure, come giocato in partita dalla Muminova, cambiare i cavalli. Qui allora il bianco cambia il cavallo in C6. Attenzione a come si riprende. Non si riprende col pedone D, perché poi il bianco gli cambia le donne e si ritrova in vantaggio. E allora giustamente la Kadem riprende col pedone B e arriva E5. Anche in questo caso si poteva giocare cavallo in C3 e E5, pare l'idea più ambiziosa. E allora come continua Sarasadat? Donna in E7 previene la cattura del cavallo, perché adesso il pedone è inchiodato in maniera assoluta sul re. E allora il bianco gioca donna in E2, continuazione principale. Cavallo sotto attacco si porta in D5. La linea principale è la spinta C4. E invece arriva H4, seconda mossa più giocata. Ora pensate, interessantissimo. Seppur poco giocata per il nero, è la spinta F6. Qui con la donna davanti, e poi senza nessun cavallo, non ci si deve preoccupare degli scacchi della donna bianca. Poi se questo ricattura si riprende di cavallo, praticamente il nero ha più che, forse forse, ha più che equalizzato. E invece arriva donna in E6, mossa più giocata, e finalmente il bianco spinge in C4. Cavallo sotto attacco si porta in B6, e ora qui c'è da sviluppare. Purtroppo per il bianco, guardate che cosa è successo. Questa donna quasi, senza e quasi, infastidisce lo sviluppo dell'alfiere. E allora il bianco gioca il cavallo in D2. Poi ci sono, dopo dieci mosse, ancora una decina, anzi una ventina di partite in database, nelle quali A5 è la mossa più giocata dal nero. Invece arriva qui l'interessante novità di Sarasadat. Perché arriva D6, stessa idea, simile idea di F6. Perché cosa succede praticamente? Se il bianco cattura, si migliora la struttura pedonale del nero. Se no, praticamente il nero minaccia di vincere un pedone, di vincere un pedone centrale. Lasciamo stare che poi i due pedoni diventano isolati. E ma qui c'è un pedone centrale in più. E allora, giustamente il bianco protegge il pedone con cavallo in F3, D per E5, e adesso il bianco deve assolutamente riprendere. Cosa che Nafisa Mouminova non farà. Cosa dovrebbe fare il bianco in questa posizione? Dovrebbe riprendere di donna e non di cavallo. Perché la cattura di cavallo permette un fastidioso, seppur giocabilissima anche la ricattura col cavallo, scacco alfiere in B4. Bisogna prendere di donna, perché adesso dopo alfiere in B4 con scacco basta giocare subito alfiere in D2. E allora donna per donna con scacco, il cavallo cattura e attacca il pedone. Un pedone che non va difeso, bisogna giocare alfiere in D6. Cavallo cattura il pedone, ma non fa nessun'altra minaccia. Alfiere in B7 arriva con tempo, il nero alla prossima arroccherà, e probabilmente il cavallo si porterà in A5 per riprendersi il tempo, ma naturalmente l'alfiere va salvato. Il nero in una o due mosse arroccherà a lungo, e seppur abbia perso un pedone, con il re bianco ancora al centro, c'è grandissimo l'equilibrio, il computer crede che addirittura sia più semplice giocare con il nero. Ritorniamo a noi. Invece che succede? Probabilmente spaventata dal possibile alfiere in B4 con scacco, il bianco in questa partita gioca alfiere in D2. Ora il problema però è che con F6 il nero difende il pedone. E allora donna in E4, alfiere in D7, arrocco lungo per il bianco, arriva C5. Questa torre è protetta dal cavallo, protetta, protetto dalla sua donna, sta anche per arrivare l'alfiere chiaro sulla diagonale principale. Oltretutto con il discorso che il bianco era un po' indietro di sviluppo, è stato costretto ad arroccare lungo. E allora arriva H5, alfiere in C6 attacca la donna, donna sotto attacco si porta in C2, perché bisogna continuare a mantenere la protezione del pedone in C4, e anche il nero si mette al sicuro. Arrocco lungo. Cavallo in H4, e arriva E4. Allora, torre in H3, attiva la torre. Io stavo pensando anche a torre in A3, che potrebbe essere particolarmente fastidiosa. Ora, naturalmente, Re in B7 ci vuole qualche altro pezzo per dar fastidio poi all'arrocco del nero. Ma comunque, torre in H3 mi sembra un'ottima mossa. Arriva torre in D4, terzo attacco sul pedone, e il bianco gioca B3. Allora, alfiere in B7, libera la torre, torre in E1 di fronte al pedone nero più avanzato, e arriva però F5. Il cavallo bianco può saltare in F3, perché il pedone centrale è inchiodato sulla donna e attacca la torre. Una torre che si dovrà spostare. E allora, torre in D7, alfiere in F4, probabilmente si vuole saltare in E5 col cavallo, e allora non glielo permette Sarasadat, perché migliora oltretutto la qualità dell'alfiere. Guardate che controlla... I due alfieri che controllano praticamente... Ora questa diagonale è ancora chiusa, ma i due alfieri sulle diagonali principali, vedete come è nero? Naturalmente si vede che oltre al pedone è riuscito a prendere l'iniziativa. Ora, il cavallo è rimasto sotto attacco, e allora cavallo in G5. Donna in E7, cavallo due volte sotto attacco, un cavallo che non si può spostare. E allora, la torre da elemento potenzialmente offensivo, adesso che c'è B3, e adesso che deve difendere il cavallo, è diventato un elemento difensivo, arriva alfiere in E5, alfiere per alfiere, la donna ricattura. Ora attenzione, perché se il nero potesse giocare una seconda mossa di fila, arriverebbe F4. Cosa fa questo F4? Attacca il difensore di un pezzo che è diventato sotto attacco, vince un pezzo, vince direttamente la partita. Come mai? Perché dopo F4 non si può giocare torre in G4. Vi faccio vedere che cosa succede. Andiamo a giocare una mossa per il bianco neutra, non giocata in partita, ma che ci potrebbe stare, non vedendo bene questa minaccia. H6 permette, permetterebbe al nero di giocare F4. Guardate che succede se torre in G4 per salvare il cavallo. Arriva donna in A1 con scacco, donna in B1 mossa unica, donna in C3 con scacco, attacco doppio. Vince l'altra torre, quindi non si perde il cavallo, si perde. Una torre piena. Ritorniamo allora alla nostra partita, perché dopo la ricattura di donna, cosa fa il bianco? Va a proteggere questa diagonale scura, gioca donna in C3, cerca il cambio donne, il nero le donne è anche disposto a cambiarle, ma se le vuole far cambiare in D4, dove riprenderebbe col pedone, crea pedone passato connesso. E allora il bianco non cambia le donne, gioca cavallo in E6, che attacca la donna, ed è un secondo attacco sul pedone in G7, ma lasciando scoperto il pedone in F2, donna che cattura in F2, il nero ce l'ha già, il pedone passato, adesso ce l'ha, ed è pure connesso. E allora torre che cattura in G7, la torre in E8, attacca il cavallo, cavallo unico difensore della donna sotto attacco, e allora il bianco deve cambiare le torri, torre per torre in D7, l'alfiere ricattura secondo attacco sul cavallo sospeso, cavallo in G7 attacca la torre, torre in E7. E' vero che il cavallo è protetto dalla donna, ma nell'economia dei pezzi, non è che sia un grande difensore la donna, bisogna liberarla a tutti i costi, perché non si può tenere fermo la donna a difendere un cavallo, per questo motivo arriva H6. E allora, donna in F4 con scacco, e anche un attacco doppio, donna in E3, di nuovo il bianco cerca il cambio donne, ma quando si ha l'iniziativa, non si devono cambiare le donne, tant'è che Sara Sadat gioca donne in E5, la solita terribile minaccia, donna in A1 con scacco. E allora il bianco gioca alfiere in D3, attenzione, ha due idee questa mossa, intanto il pedone non lo può catturare, altrimenti si perde, si fa donna per donna, torre ricattura, torre per torre, si perde la torre, e si perde la partita. In caso di scacco, è l'alfiare stesso che farà da scudo al re bianco, portandosi in B1, intanto, questo pedone non lo può catturare. E allora cosa fa Sara Sadat? Avanza il pedone, F4 attacca la donna, la donna torna indietro, non si poteva andare a catturare il pedone? E non si poteva, perché basta spostare la donna con scacco, vedete? E qui, gli rimane la donna sotto attacco. Allora, dopo F4, la donna deve tornare indietro, adesso però, si può anche catturare di alfiere. E allora, che cosa fa il nero? Gioca alfiere in C6, alfiere in C2, donna in G5, attenzione, F3, scacco di scoperta, è micidiale, e allora, donna in H5, solita idea, di nuovo il bianco cerca il cambio donne, di nuovo Sara Sadat, non glielo concede. Arriva donna in G3, che è un mezzo errore, perché, che cosa fa? Certo, queste sono partite rapid, quindi, siamo alla trentasesima mossa, di una partita anche un po' fuori dagli schemi, quindi, il tempo è stato consumato, cosa fa questa donna in G3? Attacca la torre sospesa, attacca il pedone, ma qui, come bianco, avendo tempo e lucidità, bastava giocare torre in D1, quindi, mettere la torre, lontano, dalle grinfie della donna, controllare la colonna aperta, e guardate, quanti bersagli, c'è sia lo scacco di donna, che anche cade, molto probabilmente, il pedone in C5, e quindi, seppur il nero rimanga preferibile, praticamente, il bianco, ha la possibilità, con tutti questi bersagli, di rientrare in partita, e allora, dopo donna in G3, che cosa fa il bianco? Torre in F1 serve a poco, perché arriva donna in C3, e, adesso, attenzione, questo pedone in F4, è tatticamente protetto, perché se la torre cattura, lo scacco di donna, è un attacco doppio, che vince la torre, quindi vince la partita, sta per arrivare, l'amicidiale spinta E3, e qui il pedone passato, sta pure avanzando, allora, donna in F5 con scacco, ma senza altri pezzi, che la supportano, il re in B7 è sicurissimo, donna che cattura in F4, va bene, ma arriva E3, sta pure per arrivare E2, sta pure per arrivare E1, e allora, cavallo in F5, attacca la torre, e noi, mossa 41, mossa 40, anche per il nero, siamo al nostro quizone, perché, si nota, che il nero ha posizione dominante, ci sono tante buone idee, a disposizione, di Sarasadat, ma ce n'è una, che è particolarmente, forte e precisa, allora, mettete fuori in pausa, se volete, e da voi la parola, ritorniamo subito a noi, cosa giocherà, la ragazza iraniana, in questa partita, la mossa più forte, scacco di donna, quel tema, che abbiamo sempre visto, oppure, che abbiamo visto spesso, durante questa partita, vedete che, il re non può scappare, e allora, alfiere in B1, è mossa unica, alfiere in E4, e qui, sicura, attacca, un pezzo, inchiodato sul re, che non si può più difendere, se non si fa posto, al re, è scacco matto, e allora, il pezzo si perde per forza, se non altro, bisogna non prendere matto, e allora, il bianco elimina il pedone, che faceva il muro, al re bianco, donna che cattura, l'alfiere con scacco, re in D2, donna in D3 con scacco, re in C1, donna in C3 con scacco, re in D1, e arriva la torre, torre in D7 con scacco, ora qui, che succede? Il re non si può spostare, perché se re in E2, qui basta giocare, donna in D2, ed è scacco matto, e allora, bisogna interferire di cavallo, e allora, il bianco gioca a cavallo in D5, alfiere per cavallo, attenzione al micidiale, scacco di scoperta, ma naturalmente bisogna riprendere, pedone C che ricattura, torre che ricattura in D5 con scacco, re in D2, e ora la manovra finale, donna in C2 con scacco, re in E3, torre in D3 con scacco, re in E4, e la torre, protetta dal pedone, si muove in D4 con scacco, quando il re si sposta, questa è un'infilata micidiale, che vince la donna, e il bianco giustamente abbandona. Brava Sarasadat, bella partita, oltretutto, nella partita scozzese, che è un'apertura che non vediamo molto spesso, invece è interessantissima, io faccio un grande in bocca al lupo a questa ragazza e alla sua famiglia, ed un grande in bocca al lupo anche al popolo iraniano. Per quanto riguarda noi, che ringraziamo il Dio, stiamo meglio, un po' meglio, io vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, spero che il video di oggi vi sia piaciuto, vi saluto perché oggi è l'ultimo giorno dell'anno, domani non ci sarò, ma ci rivedremo il 2, e vi auguro un buonissimo 2023. A presto!